La crisi c'è e si fa sentire, ma qualche volta aiuta. Un paradosso che aiuta a spiegare l'intricato mondo della ricerca di un alloggio, soprattutto tra i numerosi studenti che inizieranno e riprenderanno l'attività accademica. I numeri quelli ufficiali ancora non ci sono, ma la tendenza riscontrata dalla CISL non lascia spazio a dubbi. La richiesta è calata del 90% rispetto a luglio dello scorso anno, circostanza figlia di una crisi che ha scatenato un effetto domino, costringendo privati ed agenzie ad abbassare i prezzi degli affitti in città. L'anno scorso un bilocale in centro storico a Pavia non costava meno di 600 euro, quest'anno si trova anche 500 euro, quindi una coppia di studenti, direi che di solito un bilocale viene occupato da un paio di studenti, è ovvio che 250 euro a ciascuno, insomma, è qualcosa di diverso dall'anno scorso di 300 euro. Una tendenza positiva confermata da Paola, studentessa fuorisede che ci ha aperto le porte della sua casa, un trilocale in zona policlinico condiviso con altre tre persone, a 140 euro a testa mensili, spese comprese. Un prezzo decisamente vantaggioso, reso possibile dal contratto di subaffitto firmato, che permette ai quattro inquilini di ammortizzare ulteriormente la spesa. Ma tra esperienze dirette e casi segnalati da amici, non sono mancati negli anni episodi negativi. I problemi, racconta Paola, sono sempre gli stessi, privati troppo furbi o agenzie avare di informazioni. Certe agenzie non mettono bene in chiaro le cose all'inizio e magari la famiglia si trova con la sorpresa delle spese in più da pagare, che non vengono spiegate bene e sono incluse o escluse. Inoltre c'è anche il problema del nero, una volta che magari si affidano dei privati, che magari fanno, come si direbbe in gergo, dei fugni e cercano magari di intascarsi una parte di soldi, era successo a un'altra mia amica. Un mondo variegato in cui bisogna prestare la massima attenzione per orientarsi ed evitare la più classica delle sole, affidarsi a persone conosciute e firmare contratti regolari, i consigli da seguire per partire con il piede giusto e limitare le possibilità di rimanere fregati. È quasi sempre meglio comunque giro di amici che già hanno case oppure agenzie molto serie. Il privato sconosciuto lo sconsiglio sempre. Non fare contratti in nero oppure, se impongo il problema di fare contratti in nero, cioè contratti non identificabili dal punto di vista delle condizioni poste e delle leggi vigenti, di venire sindacato.